Ciao, sono Simone, volontario di OCCI in Marocco. Con OCCI aiutiamo i bambini disabili più svantaggiati e le loro famiglie. I nostri progetti di riabilitazione su base comunitaria favoriscono lo sviluppo di una società che accetti e si prenda cura dei bambini disabili. Facciamo sensibilizzazione ai ragazzi nelle scuole, portiamo davanti alle autorità la voce delle mamme e dei bambini. Lavoriamo assieme alle istituzioni pubbliche e alle associazioni locali per creare una rete che possa condividere ideali e valori per raggiungere lo stesso obiettivo. Formiamo giovani marocchini volontari e volontarie che danno sostegno alle famiglie, li orientano su come valorizzare i loro figli, insegnando loro attività riabilitative da fare a casa e incoraggiandole a renderli più partecipi della comunità in cui abitano. Anche qui la prima conseguenza del corretto Covid-19 è stata la chiusura delle scuole e dei centri per bambini disabili. È venuto quindi a mancare alle famiglie il sostegno dato dalle figure professionali e dagli insegnanti. Spesso sono stati solo i nostri volontari a mantenere i contatti telefonici con le famiglie dando loro un grande sostegno psicologico, non abbandonandole in questo momento di difficoltà. Anche con questo gesto i nostri volontari si sono fatti promotori di una società che non abbandona e non discrimina, ma si prende cura delle mamme e dei loro bambini disabili. Scegli Riso Foxit col diretti su www.giusto.com. Difendi chi lavora la terra.